Quale cuclo? Cuclo Guarda cosa scrivo in chat Cuclo Eh che vuol dire cuclo? Non avevo idea Nel culo e vecchiaccio Ma che cazzo? Questa è matta raga Riportatelo Guarda raga correte Grazie per aver guardato il video Per questo nuovo video di non so che cosa Allora questo è un piccolo survival game Fatto con Martival e Dani Quindi volevo ringraziarli E se vi piace la penna gialla Mettete mi piace Altrimenti ho preso come ostaggio Dani Non so che non ve l'ho fatto un cazzo Quindi ho preso come ostaggio Marti Quindi Non ti senti Marti? Non so Comunque Ho preso come ostaggio Marti Quindi Se non mi piace Lei esplode Quindi Vai con il video Io vado sotto Ho una spada Ok era meglio non andarci Perché siamo da giù di sotto? Usavo la cazzo di spada Matteo Non ho una spada Oh Morto Ok è morto è morto È morto È morto No vai 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 corri corri Guardi Matteo sei morto No non so è morto Ti pare Ti pare Mi pecchiano Sto uccidendo tutti Sono paccato nella neve Che cazzo è? Ecco vedi Sono cascata No non c'è nulla Non c'è un armi Eh fai un cazzo Che cazzo che sto ammazzo Quale? Non so chi sei Magari Oh avete un ferrino Avete un ferretto No Ah Ah Ok Ma mi sono più forte Ha fatto tipo 28 kill Femi tutti Femi tutti Vale chieda tutti Chieda tutti Ok cazzo C'ho tipo un diamante C'ho un botto d'armatura Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete? Cuclo La smettete questo cuclo Oh ragazzi Siamo lo spawn Matteo Ok c'ho anch'io Vai altri cest Vale ti sto dietro Dani Dani Vieni Dani Ah è Matteo Un po' di roba Tenete Uno due Tre quattro C'ho un diamante E uno stick No ma non c'ho un cazzo No non c'ho un cazzo Prende 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 Tu Oh datemi qualcosa Non c'ho nient'altro Oh tu ti punti Due 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 Dai quello con la spada Dai io faccio dai Dani so con te Che cazzo fai Che mi f***i Sì Presa 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 So più forte So più forte Mamma mia Mamma mia Che team Che team Che team Che team Ok so buono Ti regalo questi scarpini No Questi scarpini sono autografati dal fortissimo Bazzaretto Non ce l'ho io la spada Matteo ci non ti Sì sono buon Vai spero C'è un amico SP qua Uè amico SP dove scappi We 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 Oh it's Ma Sai Passati qua Passati qua Passati qua Dai C'è uno qui sotto C'è uno qui sotto C'è una qui sotto C'è una qui sotto C'è ora qui sotto C'è una qui sotto C'è una cazza sono benvenuti a un'altra con la sua armatura armatura mi pare fatto a fare la parte di un'altra parte che casi a a che cazzo a per 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 questo e no 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 andiamo a sopra la terra di broma non trovo più poco Marti sta qui il bugo Marti scappa Marti scappa Marti scappa Marti scappa grande 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 vai qua 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 no sono io so io che cazzo picchi vai vai sto picchiando Martino preso 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 che casino occhio ah ciao i pantaloni che gli vuole io tieni vale sono lì tieni i tuoi bambini sono i Неusevanti se li fassa di tutta lei duty inAM матери mente semaine 18 due team 2000 parla vada noi guida ai 26 dan ons contioso c della utta occhio ai Fred mignambnie mignam MINGA, mi palla il culo Anche io sono caduto Occhio, occhio, c'è mezzo cuore Ti copro io, Matteo Io ho bisogno di cazzo di frecce Io c'ho un arco Così non mi vedono Non mi so Ragazzi, non mi stai giù Ragazzi, non mi stai giù Vai che sto che siete Gli faccio il nano Corri, corri, vale Corri, corri Ti sei baguette Sì, c'ho mezzo gogomero Vale, sono qui, vale a serista Ehi, vale Ehi, vale Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Aspetta Vengo io Sono qui Sono qui Vai, vai, Marti, Marti, Marti Un colpo, un colpo Guardi, guardi, occhio che ce ne sono altra Ho ucciso, l'ho ucciso Oddio, la prima kill di Marti Minghe Non è la prima La seconda Marti, vieni qua Vieni qua Potete fare la spada in ferro, guarda Io c'ho in l'occiola Mi do anche questi Ho un diamante se vi serve, raga Che c'ho la pettolina in ferro? Nessuno Io ce l'ho, io ho la pettolina in ferro È rimasto Benjamini Io ho tanto cibo, serve cibo? Ma noi siamo in guadro No E io presto Oh facciamo i team dopo Tipo random Sìììììì Io e Dani Cibo Maschicondropem lui Maschicondropem lui Maschicondropem lui Oh sei cazziva Però si muro e mi sponsorizza Mi scriveri per il canale di Di Vale Mi scriverai per il canale di Rosari Mul Nein Mi picchia No Ovvero Chi è? Sei una bulla Comunque aspettiamo le file che ci facciamo la roba Oh Oh Oddio aspetta 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 Merevi che ci facciamo la roba buona che cazzo Eh ma Matteo sa che figa la cosa che ci si vede il mantello da dietro Eh figa eh 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 Matteo io sono venuto qua a treccato dettagli per vendere roba buona Tutto muoio italiani Oh no avete scodellina? No c'è un biscottino Lo vuoi un biscottino? Ma te stai taggando? No Ah è Dani è cresciato Dani No Dani 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 Oh vabbè se deve morire lo uccido io così mi dà una c***o Dai sei cattiva Sei cattiva vale E' una cresciata è una cresciata E vabbè cosa vuol dire l'hai scoperto di una chillo Siamo rimasti in tre ah Scusa sei cattiva Ah c'è una bicchiere vedi che è cresciata Ciao Dani Ciao Povera Dani 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 Do 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 Quindi l'ultimo tipo a questa Oh oh Matteo Dimmi Marti Controvalia Ok ok C'è nessuno? Dov'è c'è noi? C'è nessuno? Mi viene mi viene mi viene Dov'è? 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 Valla? Valla Eh oddio lagga un po' su io Eh stai laggando tu? No valla 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 con le H Con le cac Con le cac Noi dammi del cibo se no ti devo uccide Ah Oh questa festa bella bella Voi pure 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 Si vedevo quella Oddio Lascia il mio ce li amo Ce li amo o ti uccide ma si Lascia in pace Cucu Cucu Oddio Adesso non faccio più Siamo con nessuno No no aspetta report 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 Non esiste Ok ciao Ok ragazzi purtroppo questo video è tutto Vi do di nuovo lasciatevi a questo video Se questo video vi è davvero piaciuto Quindi Dovete fare tutto Stay tuned Perché da lunedì si inizia con le cacchette grigie Da tutto Vi do di nuovo studio Here we go Yo